Buongiorno a tutti, svegliati Alessandria, oggi il 16 novembre 2019, sono sull'area di sosta della tangenziale che da Acqui porta in Alessandria, qui come potete vedere abbiamo un po' di materiale inquinante, ossia del presunto Ethernet, lastra di presunto Ethernet, rifiuti vari, proseguiamo la carrellata degli orrori, televisori, sacchi, sacchetti, bottiglie, ne abbiamo ancora più avanti, guardate che schifo che c'è in quest'area di sosto, questi sono dei calcinacci buttati qua, bottiglie, mi provo ad affacciare da questa riva, si vede ancora lastre di presunto Ethernet gettate giù dalla riva, spero che si possano vedere bene, sono lì, nascoste dall'erba, dalle piante, un'area di sosta invasa da rifiuti, dall'inciviltà dell'uomo, abbiamo anche un cartello nascosto dove ci ricorda che è vietato scaricare, di vieta di discarico, ancora rifiuti, ancora un'occhiata dalla riva, lo spettacolo non cambia, abbiamo una quantità infinita di rifiuti, abbiamo ancora dell'Ethernet o presunto Ethernet subito qua appena ci affacciamo, come potete vedere, eccolo qua, un orrore praticamente senza fine, questa è la tangenziale e questo è lo schifo che c'è in quest'area di sosta dove in pratica vengono a gettare rifiuti questi sozzoni, questi inquinatori ambientali. Va bene, si provvederà a segnalare anche questa situazione agli organi competenti, per il momento è tutto, da Sveglete e Alessandria, buona giornata a tutti!